Scontro di alta classifica, quello fra Alba Adriatica e Torrese con l'undici di De Amicis che è raggiunta la salvezza, ha bisogno di un successo per giocarsi le residue e possibilità di conquistare un posto nei playoff. Quest'ultimo invece è un obiettivo già centrato dalla compagine ospite che però deve fare risultato per provare a sopravanzare l'Aquila e il Giulianova. Subito occasione per i padroni di casa su calcio piazzato dopo un minuto ma il sinistro di Picone finisce lontano dallo specchio della porta. Cambia il risultato all'ottavo quando Pincelli si incunia nere di rigore e viene atterrato da Di Loreto. Sciuba assegna il calcio di rigore che Torre trasforma, trafiggendo Abate e portando in vantaggio l'Alba Adriatica. La Torrese fatica a reagire, non riesce a creare pericoli a Verissimo nei primi 30 minuti, mentre l'undici locale prova a pungere più volte in contropiede. Si vede per la prima volta la Torrese al 35esimo quando sul corner di Mastrilli svetta Di Loreto che però non inquadra la porta. Insistono gli ospiti che prendono coraggio. Al 41esimo calcio piazzato di Di Nicola e sfera deviata in angolo. E un'altra Torrese in avvio di secondo tempo. Cristofari prova a cambiare le carte in tavola dopo tre minuti della ripresa inserendo Grauberg e Gentile al posto di Selmanai e Mosca. Proprio Gentile prova a farsi pericoloso un minuto dopo concludendo da posizione centrale spedendo però a lato. Al sesto arriva il pari della Torrese. Di Federico serve in verticale Antichi che parte sul filo del fuorigioco e con un preciso diagonale batte Verissimo. Al decimo gli ospiti possono addirittura ribaltare il risultato con Grauberg che riesce a saltare il portiere ma conclude poi sull'esterno della rete. Si rivedono i padroni di casa al 22esimo quando Torre incorna sugli sviluppi di un corner spedendo sopra la traversa. Passa un minuto da parti invertite arriva un'occasionissima per Grauberg che penetra in area di rigore facendosi però ipnotizzare da un prodigioso Verissimo. Al 34esimo pericolosa ancora la Torrese. Cross si coordina ma spedisce sull'esterno della rete. Al 43esimo torna insidiosa l'Alba con Pincelli che si inserisce in area di rigore senza riuscire a trafiggere Abate. Il punteggio non cambia più al Vallese. Finisce così uno a uno fra Alba Adriatica e Torrese. Mi dà fastidio tantissimo il fatto che abbiamo preso gol in una maniera fin troppo semplice anche se il mio giocatore mi ha detto che era fuori gioco. Lo voglio rivedere stasera ma non cambia tanto. Lì c'era da accompagnare il movimento dell'attaccante e punto. Abbiamo preso gol in maniera troppo troppo sembrava una giocata d'allenamento. Mi dà fastidio questo fatto perché essere passato in vantaggio contro una squadra così forte come la Torrese e non aver portato il risultato a casa mi dà enormemente fastidio soprattutto per il fatto che ci giocavamo le ultime chance di ragganciarci al quinto posto. Visto che l'Aquila comunque la seconda in classifica oggi ha avuto una battuta d'arresto. Mi rode abbastanza. Ci doveva vincere questa partita, partita tosta. Sotto il profilo dell'impegno non posso rimproverare assolutamente niente alla mia squadra. A livello tecnico abbiamo fatto qualche errorino. Anche dopo l'1-0 nel primo tempo potevamo ripartire con maggiore qualità perché c'erano gli spazi per andare a fare il secondo gol e magari chiuderà definitivamente la partita così non è stato. Chiaramente dai guardiamo avanti con il futuro, con il futuro guardiamo con ottimismo diciamo dai e comunque posso assicurarvi che noi giocheremo. Un bilancio positivo. Assolutamente sì. Certo il risultato di oggi è un risultato per noi fondamentale. Ti ripeto come ho detto prima. Tu hai la partita da recuperare domenica con il penne. Magari fai sei punti e puoi riaprire il discorso playoff. Così ci dobbiamo un pochettino ridimensionare. Però cercheremo di onorare fino in fondo e vi posso assicurare su questo lo faremo fino all'ultima giornata di campionato. Non abbiamo approcciato bene la gara. L'Alba sicuramente ci ha credito dall'inizio. Noi non abbiamo capito bene che tipo di partita fosse nonostante in settimana l'avevamo preparata così su un campo difficile da poter giocare. Loro hanno trovato il gol, hanno avuto anche un paio di situazioni dove siamo stati fortunati a non subire il secondo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina ma l'atteggiamento della squadra è cambiato e sicuramente il pareggio è un risultato che insomma ci va anche un po' stretto per le occasioni che si sono maturate nel secondo tempo. Però insomma ci prendiamo questo punto e andiamo avanti.